Ciao a tutti gli spettatori del mio canale. In questo video voglio raccontarvi una storia molto commovente e a volte tragica di piacevole visione. Robert Johnson, carismatico e affermato uomo d'affari di New York, frequenta segretamente da alcuni mesi una giovane modella, Cristina. La loro storia d'amore appassionata era per lui una boccata d'aria fresca sullo sfondo del rapporto sempre più debole con la moglie Emily e ora arrivava il momento perfetto per un altro appuntamento, un viaggio di lavoro di una settimana a Los Angeles. Tesoro, la prossima settimana devo andare a Los Angeles, disse Robert con disinvoltura durante la cena. C'è una conferenza importante e devo esserci. Emily guardò attentamente il marito davanti al bicchiere di vino. Ultimamente era spesso in ritardo al lavoro, era riservato e a volte aveva un profumo sconosciuto. Sospettava che Robert si vedesse con qualcuno, ma non c'erano ancora prove. Quale conferenza? Non ne avevi mai parlato prima, chiese Emily, cercando di mantenere la voce calma. È stata organizzata all'ultimo minuto, l'ho scoperto un paio di giorni fa, rispose Robert velocemente. Capisco che tu sia arrabbiata per la mia partenza così improvvisa, ma è molto importante per gli affari, non posso mancare. Beh, se è così importante me la caverò da sola, disse Emily con una leggera ironia. Sapeva che il marito stava mentendo, ma decise di stare al gioco. Quando tornerai? Il prossimo fine settimana, credo. Cercherò di finire prima. Ok, buon viaggio. Emily finì il vino e lasciò il tavolo. Era quasi certa che non ci sarebbe stata nessuna conferenza. Probabilmente Robert aveva in programma un appuntamento amoroso. Il giorno dopo, mentre Robert era al lavoro, Emily entrò in azione. La prima cosa che fece fu chiamare la sua amica Samantha, che aveva da poco divorziato dal marito traditore. Sam, ciao, sono Emily. Ho bisogno di parlarti. Ehi, Em, è da un po' che non ti sento. Cosa c'è? Credo che Robert mi tradisca, sbottò Emily, esprimendo i suoi sospetti. Che idiota. Samantha era indignata. Sapevo che non sarebbe rimasto fedele a lungo. Hai bisogno di prove o non otterrai nulla dal divorzio. Lo so, per questo voglio assumere un detective che lo segua a Los Angeles. Hai ancora il recapito del tizio che lavorava per te, vero? Sì, te lo manderò. Nel frattempo, vieni a casa mia e parliamo dei dettagli. E non dimenticare di portare l'accordo prematrimoniale e gli altri documenti. Ok, sarò lì tra un'ora. Emily riagganciò il telefono e iniziò a fare le valigie. Aveva molto lavoro davanti a sé. L'incontro con l'amica e il colloquio con l'avvocato avevano dato a Emily la giusta determinazione. Sapeva che in caso di divorzio avrebbe potuto ottenere una parte considerevole del patrimonio di Robert in base all'accordo prematrimoniale. Le serviva solo la prova dell'infedeltà. Emily fornì al detective informazioni sull'imminente viaggio d'affari del marito. Gli prenotò un biglietto per Los Angeles e trasferì l'anticipo. La sera prima della partenza, Robert era di ottimo umore. Non vedeva l'ora di trascorrere una settimana da solo con Christine, tra ristoranti costosi e locali notturni. Robert aveva persino scelto un anello di diamanti per la sua amante, che intendeva regalarle a cena. Guardando la moglie che preparava la valigia, provò un leggero rimorso di coscienza, ma subito lo scacciò. Dopotutto aveva il diritto di divertirsi un po'. «Emily, potresti passare in tintoria a prendere il mio vestito nuovo?» chiese Robert. «Certo, tesoro», rispose Emily con il tono di una moglie premurosa. «Farò tutto io». «Oh sì, mi occuperò di tutto», aggiunse mentalmente, nascondendo un sorriso ironico. Mentre Robert si sarebbe goduto la compagnia della sua amante, la sua detective avrebbe raccolto tutte le prove necessarie. E poi sarebbe arrivata l'ora della resa dei conti. La mattina dopo, Emily accompagnò il marito all'aeroporto. Si salutarono con un abbraccio, ma il bacio fu secco e privo di emozioni. «Spero che questo viaggio di lavoro sia l'ultimo», pensò Emily mentre guardava Robert allontanarsi. Quando tornò a casa, Emily aprì la cassaforte dell'ufficio del marito. Come previsto, tutti i documenti erano lì. Ne aveva fatto regolarmente delle copie mentre Robert era al lavoro. Ora non restava che attendere notizie dal detective. La partita era iniziata ed Emily era determinata a vincere. Robert e Christine arrivarono a Los Angeles la mattina presto e andarono direttamente al Beverly Hills Hotel. Avevano preso una camera lussuosa con vista sulla città. Robert non aveva lesinato sul comfort per la sua giovane fidanzata. «Allora, cosa facciamo?» chiese Christine giocosa, mettendo le braccia intorno al collo del suo amante. «Un cocktail mattutino a bordo piscina?» «Prima a letto», rispose Robert, baciandole il collo. «E poi ovunque tu voglia andare. Tutta Los Angeles è ai nostri piedi». Fecero ogni sorta di cattiveria sull'enorme letto cosparso di petali di rosa. Robert non si era accorto che erano ripresi da una telecamera nascosta installata dalla detective Emily. I due amanti, sazi l'uno dell'altro, scesero in piscina. Christine sfoggiò un bichini rivelatore, attirando gli sguardi degli altri uomini. Robert ordinò cocktail e antipasti, gettando con non curanza la sua carta di platino sul bancone. «Forse potremmo andare a vedere le boutique di Rodeo Drive», propose Christine sorseggiando un margarita. «Voglio comprare un vestito nuovo per stasera». «Certo, tesoro», sorrise Robert. Si diressero in auto verso i negozi, dove Christine si diede allo shopping, sfrenato. Robert non era avaro. Le comprò abiti, scarpe e ghioielli di marca. In un solo, Giono, la ragazza spese per i suoi capricci, più di centite mila dollari. La sera la coppia andò in un ristorante alla moda, dove li aspettava già un detective con la macchina fotografica. Robert e Christine cenarono, flirtarono e a un certo punto iniziarono anche a baciarsi, senza mettere in imbarazzo gli altri visitatori. I camerieri sussurravano e ridacchiavano di fronte a una così schietta dimostrazione di affetto. Alla fine della cena, Robert tirò fuori una scatola preziosa e la porse a Christine. «Questo è per te, amore mio. Solo per gioco, come segno della mia devozione». Christine aprì la scatola e gridò di gioia. All'interno scintillava un anello con un enorme diamante a forma di cuore. «Dio, Robert, è bellissimo». La ragazza lo mise subito al dito e lo ammirò. «Ti amo così tanto». Si scambiarono un lungo bacio sotto i flash delle macchine fotografiche del detective e degli altri visitatori. L'anello era costato una fortuna, ma Robert era sicuro che Christine valesse ogni centesimo speso. Per la settimana successiva, gli amanti si crogiolarono nel lusso e si godettero la reciproca compagnia. Presero il sole sulle spiagge di Malibu, cenarono nei migliori ristoranti e fecero festa nei locali notturni. La detective Emily li seguiva senza sosta, registrando meticolosamente ogni momento, ogni prova di infedeltà coniugale. L'ultima notte prima della partenza, Robert e Christine si baciarono sul balcone della loro stanza, ignari del fatto che tutti i loro piaceri erano ripresi da una telecamera di un edificio vicino. «Rimaniamo qui per sempre, solo io e te». «Anche a me piacerebbe, tesoro», sospirò Robert. «Ma non posso ancora lasciare tutto. Devo occuparmi di alcuni affari a New York. Ti prometto che presto staremo insieme». Si baciarono a lungo, facendo progetti per il futuro. Robert accennò anche al fatto che stava pensando di divorziare da Emily. Christina era al settimo cielo. Mentre Robert si godeva il romanticismo, sua moglie non perse tempo. Dopo aver ricevuto dal detective una pila di materiale compromettente, Emily iniziò ad agire. Innanzitutto bloccò tutte le carte di credito del marito e trasferì l'80% dei fondi dai conti comuni a suo nome. Poi Emily cambiò le serrature della loro lussuosa villa e della villa di campagna. Il fedele maggiordomo Sebastian, che aveva servito la famiglia per molti anni, l'ha aiutata a farlo, chiese con voce tremante mentre cambiava la serratura della porta d'ingresso. «Sebastian, non sono mai stata così sicura», rispose Emily con fermezza. «Robert ha tradito il nostro matrimonio, la nostra famiglia». Come se non bastasse, Emily chiese il divorzio, accusando il marito di infedeltà e di abusi. I suoi avvocati hanno lavorato rapidamente. Il giorno dopo il giudice ha ordinato un'ingiunzione temporanea per impedire a Robert di avvicinarsi a meno di cento metri dalla moglie e dalla casa. «È tutto pronto, signora Johnson», ha riferito l'avvocato al telefono. «Quando suo marito tornerà, avrà una brutta sorpresa». «Grazie, signor Davis», disse Emily sorridendo al telefono. «Ha fatto un ottimo lavoro. Si pentirà di avermi contattato». Soddisfatta, Emily si appoggiò al divano e si versò un bicchiere di vino. Ora non le restava che aspettare il ritorno del marito infedele e godersi la sua reazione quando si sarebbe reso conto di essere rimasto senza niente, senza soldi, senza casa e senza amante. La vendetta è un piatto che va servito freddo. Robert viaggiava in prima classe sull'aereo, sorseggiando whisky e pregustando un trionfale ritorno a casa. La settimana con Christine era stata indimenticabile, ma ora era tempo di tornare alla realtà. Immaginava di entrare nella sua lussuosa villa, di gettare con, non curanza, le valigie sul pavimento e di vedere Emily che lo abbracciava, annoiata e sottomessa. Quando il taxi si fermò davanti alla casa, Robert tirò fuori le chiavi e cercò di aprire la porta, ma la chiave non entrava nella serratura. Infastidito, Robert suonò il campanello. Nessuno rispose. Cominciò a battere sulla porta e gridò, «Emily, sono io! Apri subito! Che razza di scherzo è questo?» La porta si aprì di scatto, ma sulla soglia non c'era Sebastian, il maggiordomo, ma due poliziotti e un uomo in abito da lavoro. Chiese uno dei poliziotti, controllando la sua cartellina. «Sì, sono io. Di cosa si tratta? Perché siete in casa mia? Non siete autorizzati a stare qui, signore», disse il poliziotto porgendo a Robert un foglio di carta ufficiale. «Per ordine del tribunale, questa casa è temporaneamente di proprietà di sua moglie, Emily Johnson. Non le è consentito avvicinarsi a meno di cento metri. Cosa?», gridò Robert, strappando il documento. «È un errore. Non ho fatto nulla. Emily non può aver fatto questo. La prego, signore. Non peggiori la situazione», intervenne l'uomo in giacca e cravatta. «Sono Howard Davis, l'avvocato di sua moglie. La signora Johnson ha chiesto il divorzio a causa del suo adulterio e abbiamo prove concrete, stronzate, bugie». Robert accartocciò il foglio e lo gettò sotto i piedi. «Non ho tradito mia moglie. È lei che deve spiegarmi tutto». Tirò fuori il telefono e cominciò a comporre freneticamente il numero di Emily. Un lungo bip poi partì la segreteria telefonica. Robert provò altre volte, ma il risultato fu lo stesso. «Se vuole prendere l'essenziale, ha dieci minuti», disse il poliziotto, facendo un cenno alle valigie di Robert. In completo stato confusionale, Robert gettò l'essenziale nella sua borsa e barcollò fino al cancello. L'avvocato Davis gli passò un biglietto da visita e gli consigliò di assumere un buon avvocato. Poi i cancelli si chiusero davanti al naso di Robert con un rumore assordante. No. Una volta raggiunto l'hotel più vicino, la prima cosa che Robert fece fu controllare i suoi conti. Con orrore quasi tutte le carte erano bloccate. I contanti rimasti erano appena sufficienti per una stanza. Non riusciva a immaginare che Emily gli avesse fatto questo. Erano la coppia perfetta, la più invidiabile dell'alta società new yorkese. Lui l'aveva tradita solo per capriccio, per noia, non per serietà. Era davvero sufficiente per rovinare un matrimonio? E Robert arruolò l'aiuto di tutti gli avvocati che conosceva. Dovevano trovare una scappatoia e ribaltare la decisione del tribunale. Ma presto arrivò una notizia ancora più sconvolgente. Emily fornì le prove della sua infedeltà con Cristina. Foto, video, dichiarazioni di testimoni, registrazioni telefoniche e trasferimenti. Un'intera cartella che smascherava il marito infedele. Ha ingaggiato un detective privato, Robert. Ha spiegato con dolore il suo avvocato Stephen Baker. Ha seguito lei e la sua ragazza a Los Angeles e ha filmato un sacco di sporcizia. Con questo tipo di prove non otterrete il divorzio. Emily avrà la parte del leone del patrimonio. Ma non è giusto, Robert ululò, camminando nella stanza d'albergo. Questi soldi li ho guadagnati io, non lei. È la mia casa, i miei conti, la mia azienda. Si deve essere un modo per riavere tutto. Ahimè, è una situazione di stallo, scosse la testa Stephen. Il vostro accordo prematrimoniale stabilisce chiaramente che in caso di infedeltà la parte colpevole perde i suoi diritti sulla proprietà acquisita in comune, ed Emily vuole chiedere un risarcimento morale per la vostra relazione. Quindi preparatevi a dire addio alla maggior parte dei vostri beni. E se riuscissi a dimostrare che anche lei mi ha tradito? Robert chiese speranzoso. Forse ha anche un amante? Ne dubito. L'avvocato tirò fuori dalla sua valigetta un'imponente cartella. Guarda, qui c'è un rapporto dettagliato sulla vita di Emily nell'ultimo anno. Non ha dato il minimo motivo per sospettare un'infedeltà. Rimane a casa, gestisce la casa, le opere di carità e i suoi hobby. Nessuno scandalo, nessuna voce. Robert si strinse la testa. Tutta la sua prosperità accuratamente costruita si stava sgretolando davanti ai suoi occhi e non c'era nulla che potesse fare. Per la prima volta in vita sua si sentì impotente e impaurito. All'improvviso il telefono vibrò con un messaggio in arrivo. Robert afferrò il ricevitore, sperando che fosse Emily che voleva parlare e perdonarlo, ma era Cristina. Tesoro, mi manchi già. Quando posso rivederti? Voglio mostrarti le cose nuove. In Allegato c'era una foto di Cristina in Lingerie rivelatrice, con un anello a cuore al dito. Vedendo il diamante, l'avvocato Baker fece un fischio. È wow, non hai lesinato sul regalo per la tua ragazza. Quanto vale, tipo 200 mila dollari? Non sono affari tuoi. Robert gridò, nascondendo il telefono. Ma un attimo dopo il telefono squillò. Robert ebbe un sussulto e con le mani tremanti premette il tasto di risposta. Cara, sei tu. Grazie a Dio. Dobbiamo parlare. Non chiamarmi cara. Emily lo interruppe freddamente. La sua voce suonava dura e velenosa. Hai perso questo diritto quando hai portato la tua puttana in casa nostra mentre ero via. Sì, so anche questo. Emily, ascolta, posso spiegarti, implorò Robert, contorcendosi sulla sedia. Non era niente di serio, lo giuro. Era solo un'avventura senza legami. Davvero? E l'anello da 200 mila dollari che le hai regalato? Per me sei sempre stato un po' avaro con i gioielli. Come hai... Ok, ho fatto un casino. Lo ammetto. Lasciami rimediare. La scaricherò. Non ti tradirò mai più. Perdonami. Lasciami andare a casa. Ci amiamo. Ci fu un lungo silenzio al telefono. E poi Emily rise, in modo perfido, ironico, con un disprezzo non celato. E amore? Io ti odio, Robert Johnson. Ti odio con tutta l'anima per le tue bugie, per i tuoi tradimenti, per aver tradito il nostro matrimonio. Ma ti riprenderò. Puoi starne certa. Emily, aspetta. Non ho ancora finito. Volevi il divorzio? Lo otterrai. Ma perderai tutto. La tua cassa. I tuoi soldi. La tua posizione sociale. Ti distrugherò, Robert. Rimarrai senza niente, come un cane randagghiò. E la tua bella padella non ti aiuterà. Si stufferà presto di te senza una grassa borsa. Non puoi farmi questo, gridò Robert disperato. Non me lo merito. Sì, invece, tesoro. La voce di Emily trasudava sarcasmo. Goditi la tua caduta. E non osare più contattarmi o ti denuncerò per molestie. Ho molti amici nella polizia e nei tribunali. Il segnale di chiamata suonò. Robert rimase in piedi al centro della stanza con il telefono in mano, stordito, schiacciato dalla disgrazia. Voleva riavvolgere il tempo, sistemare le cose, non contattare più Cristina. Ma era troppo tardi. Emily lo aveva giudicato e la resa dei conti prometteva di essere brutale. All'improvviso, l'uomo ebbe un attacco di cuore. Il suo avvocato chiamò immediatamente un'ambulanza e fu ricoverato in ospedale. Robert trascorse diversi giorni in ospedale per riprendersi dall'infarto. Per tutto questo tempo riflette sul suo destino poco invidiabile e cerca di pensare a un piano di salvataggio. Il divorzio da Emily era inevitabile, ma Robert sperava di ammorbidirne i termini. Dopotutto, anche lui aveva del marcio su sua moglie. Conti, corrispondenza, alcuni sporchi segreti. Forse questo sarebbe bastato a far pendere la bilancia a suo favore. Il giorno del congedo, Christine entrò inaspettatamente nella stanza. Robert fu sorpreso di vederla. Non si erano quasi più parlati dopo lo scandalo. La modella aveva un'aria preoccupata e triste. Robert, caro, come stai? Si avvicinò al letto e cercò di abbracciare il suo amante. «Sono stata molto preoccupata per te. Grazie per essere venuta», rispose seccamente Robert, allontanandosi. «Almeno qualcuno si preoccupa ancora per me. Certo che mi preoccupo per te», esclamò Christine, tirando fuori dalla borsa l'ultimo numero del tabloid. «Ecco, guarda, hanno scritto di noi. Lo scandalo del secolo. La moglie di un milionario lo ha beccato con una giovane donna. Robert fece una smorfia. Proprio quello di cui aveva bisogno, la pubblicità della stampa per abbatterlo. Chris, ascolta, non è il momento migliore per questo. Emily vuole divorziare e portarmi via tutto. Temo che dovremo prenderci una pausa finché non avrò sistemato le cose. Cosa?» La modella sbatte le ciglia per lo stupore. «Mi stai lasciando? Dopo tutto quello che abbiamo passato, pensavo che mi avresti sposato». Robert deglutì nervosamente. Non aveva programmato di sposare la sua amante, ma era rischioso ammetterlo. «Ti prometto che presto staremo insieme. Dobbiamo solo superare la tempesta». In quel momento, la porta della stanza si aprì e Emily apparve sulla soglia. Lanciò un'occhiata sprezzante all'ex marito e al suo accompagnatore e disse «Sto interrompendo le vostre coccole, piccioncini». Cristina strillò e saltò giù dal letto. Emily le si avvicinò e le lanciò un'occhiata denigratoria. «Ecco cosa sei, una divorziata». «Non è niente di che. A quanto pare mio marito è un uomo promiscuo. Ja, non volevo rovinare la tua famiglia», sussurrò Cristina, nascondendosi dietro Robert. «È stato un incidente». «Certo che è stato un incidente», sbuffò Emily con tono velenoso. «Sei solo inciampata e gli sei caduta addosso. Poverino». Robert cercò di alzarsi dal letto, ma ricadde immediatamente sui cuscini con un gemito. Il cuore gli batteva forte per l'eccitazione. «Emily, smettila», lo supplicò. «Mi dispiace per te, lo ammetto. Parliamo in privato, senza scandali. Non c'è niente di cui parlare». Lo interruppe sua moglie, tirando fuori dei fogli dalla borsa. «Sono venuta a dirti che ho chiesto il divorzio. La tua ragazza non ha alcuna speranza di sposarti. Presto sarai un povero. Lo vedremo». Robert è in piena attività. «Ho qualcosa per spaventare anche te. I tuoi viaggi alle terme, i conti del chirurgo plastico, la tua storia con l'istruttore di fitness. Puoi ficcarti la tua sporcizia su per il culo», replicò Emily. «I miei avvocati dimostreranno in un attimo che si tratta solo di un divertimento innocuo. I tuoi peccati sono più gravi. L'infedeltà è solo la punta dell'iceberg». Robert si raffreddò. «Chris, è meglio che tu vada», mormorò, scuotendo la testa verso la porta. «È una questione di famiglia», sibilò Emily. «Esci di qui prima che chiami la sicurezza e non osare più ficcare il naso nelle nostre vite». Cristina singhiozzò, prese la borsa e corse fuori dalla stanza. Robert ed Emily rimasero soli, guardandosi negli occhi. «La vendetta è dolce», chiese Robert stancamente. «Hai ottenuto quello che volevi, rovinare il nostro matrimonio». «No, tesoro», sorrise Emily con agghiacciante crudeltà. «La vendetta è appena cominciata. Al processo, saprai cosa significa perdere tutto». Con queste parole gettò i documenti sul letto e uscì, sbattendo la porta. Robert dispiegò i fogli con mani tremanti e iniziò a leggere. A ogni riga il suo volto diventava sempre più spento. Emily aveva fatto causa non solo per la divisione dei beni, ma anche per il risarcimento completo dei danni morali, e la somma di denaro in questione era astronomica. Le settimane successive si trasformarono in un inferno per Robert. Lo scandalo trapelò alla stampa e tutti i tabloid assaporarono i sapidi dettagli del milionario traditore. I partner commerciali, uno dopo l'altro, ruppero i contratti, non volendo avere a che fare con il capo caduto in disgrazia. Durante le riunioni del Consiglio di amministrazione ogni tanto emergevano accenni alle frodi finanziarie di Robert. Anche se non c'erano prove dirette, la sua reputazione si stava incrinando, ma il colpo più devastante fu inferto da Emily durante il processo di divorzio. In un'aula di tribunale gremita di giornalisti si presentò con un abito nero attillato e grandi occhiali scuri. Emily emanava il dolore e la dignità di una moglie traditrice. Robert, invece, appariva rugoso e smunto, con un polso fasciato. Lo stress gli aveva provocato un'ulcera. Appena iniziato l'incontro, gli avvocati di Emily misero sulla scrivania del giudice tutti i precedenti di Robert. Foto e video con Cristina, fatture di alberghi costosi, stampe di bonifici alla sua amante. Ma la sorpresa principale è stata una fitta cartella con prove di reati finanziari. Evasione fiscale, transazioni fittizie, dubbie operazioni offshore, abbastanza sporco per dieci cause legali. «Vostro onore», riassunse l'avvocato di Emily, «davanti a voi c'è un bugiardo, un traditore e un criminale, non degno di un centesimo dei beni della mia cliente. Lei è vittima della sua spregiudicatezza e mescinità. Chiediamo una giusta divisione dei beni acquistati in comune a favore della signora Johnson». Il giudice annui, studiando i documenti. Robert si sedette ingobbito, fissando il tavolo con aria assente. Sapeva di aver perso. Anche i suoi avvocati sembravano depressi e confusi. Quando il giudice annunciò la sentenza, la sala esplose in un boato. A Emily era stato lasciato quasi tutto. La villa, la casa di campagna, le azioni della società, i conti e persino una collezione di auto rare. A Robert rimasero solo le briciole, un monolocale in una zona residenziale e una manutenzione minima. Come risarcimento morale fu obbligato a versare all'ex moglie diversi milioni. «È finita», sussurrò Robert mentre il giudice batteva il martelletto. Un paio di mesi dopo, Robert viveva un'esistenza miserabile in uno squallido appartamento alla periferia della città, guadagnando stipendi occasionali. Aveva dovuto accettare un lavoro come impiegato in uno studio di terza categoria. Solo i sogni gli ricordano il lusso di un tempo. Una volta, passando davanti alla sua ex villa, vide Emily e Christine scendere da una lussuosa limusine. Le ex rivali erano diventate amiche e stavano festeggiando insieme il compleanno di Emily. Robert si trattenne dal fare una scenata. Stringendo i denti si allontanò. Si profilava una tetra successione di giorni identici, pieni di difficoltà e di nostalgia. Nessuna speranza di rinascita, solo un'infinita solitudine. Nella villa, Emily beveva cocktail sulla veranda e rideva delle vicissitudini del destino. Era pronta a iniziare una nuova vita, senza bugie e umiliazioni. La vendetta era stata servita.